benvenuti ai mondiali di atletica 2007 abbiamo qui la promessa dell'atletica italiana pino dei palazzi provenite dalla provincia di napoli preparatissimo senza tensione pronto ad andare forza con la con la sua esibizione oh bravo di poco brutto bravo 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 vorrei il mio allenatore vicino a me che mi da un po' di sostegno c'è un po' di sostegno il partito da un po' di difficoltà anello mancante ora gli allenatori si appresteranno ad aiutare l'atleta a salire i allenatori ora si stanno allontanando gli allenatori si stanno allontanando all'atleta maestro continui continui maestro c'è un po' di Sì